amiche amici del mondo del vino oggi facciamo davvero un'immersione nel mondo del vino con un personaggio magari forse anche più famoso all'estero che in italia un personaggio che si identifica con il cappello e il motivo per cui ho rispolverato il mio vecchio cravattino delle mie prime interviste sebastiano ramello consulente internazionale nel settore vino da oltre 14 anni sebastiano si occupa di promuovere i vini e le aziende vitivinicole italiane nei principali mercati mondiali spesso anche selezionando vini doc e docg per conto di importatori e distributori esteri tra l'altro sebastiano anche la sua personale wine selection che lo ha reso veramente famoso in numerosi mercati e fiere oggi con lui vogliamo affrontare un tema molto interessante che quello delle tolleranze alimentari legate al vino questo perché sebastiano negli anni ha sviluppato un'interessantissima ricerca sui vini a basso contenuto di istamine ricerca che gli ha anche consentito nel 2017 di ottenere la nomina a wine ambassador da parte della israel masterchef academy un'istituzione che conta oltre mille masterchef in tutto il mondo ecco proprio in quell'occasione la ricerca di sebastiano è stata premiata con la medaglia d'oro all'innovazione quindi vini a basso contenuto di istamine vuol dire meno di 0 5 milligrammi litro ma soprattutto vuol dire maggior benessere come sebastiano si è arrivato a queste conclusioni lo scopriremo proprio insieme a lui magari partendo dalla sua storia da chi è da dove viene da cosa ha fatto e da come è arrivato al mondo del vino sebastiano benvenuto e grazie di essere qui con noi grazie a te vogliamo conoscerti meglio con gran piacere sono un piemottese faccio base in un paesino della provincia di cuno alle porte della langa come da te anticipato sono un consulente internazionale nel settore vino mi occupo da 14 anni circa di promuovere le aziende vinicole italiane e loro vini nel mondo con lo scopo di introdurre le loro etichette nei principali mercati mondiali per far questo negli anni passati ho creato un mio brand di riconoscimento che wine selection sebastiano ramello che mi rappresenta fisicamente visto che è una mia fotografia ritoccata da un artista italiana mentre degusto un buon bicchiere di barbaresco mentre indosso il cappello che poi con il tempo è diventato simbolo di riconoscimento della mia persona nell'ambito vino internazionale la mia attività iniziata selezionando vini italiani per un grosso gruppo americano poi mi sono spostato in canada studiando i monopoli di quel paese per poi passare all'europa e da circa 12 anni nasa principalmente a hong kong è diventata per un periodo la mia seconda casa in cina dove ho avuto anche fino al 2019 un ufficio guanchù in india giappone taiwan e cambogia e poi tutto il resto del sud est asiatico negli anni passati ho anche collaborato e scritto per diverse riviste internazionali straniere come esperto gli vini italiani e mercati internazionali tra queste ricordo in particolar modo gli anni di hong kong tradotto in cinese sant'è negli stati uniti che veniva distribuito a livello nazionale wine e wine in china in cina vino vino in intorno arte wine in italia e molte altre spesso collaboro nella promozione a stretto contatto con importatori distributori nei paesi dove opero partecipando ai principali eventi internazionali del vino ma anche creandone di personali creando dei b2b ecco tutto questo sicuramente ti porterà a conoscere moltissime aziende ma da dove è arrivata l'idea di voler sviluppare con un progetto di ricerca sul vino correlato alle tolleranze alimentari in realtà il mio lavoro mi porta a ricevere vini da degustare da tutta italia per lo più vini di media alta qualità che degusto spesso insieme a collaboratori e quando la bottiglia non è finita il restante lo metto sulla tavola in modo da consumarlo insieme ad amici e familiari ogni volta che mia madre beveva un vino parliamo sempre di vini di qualità specialmente rosso e ne bastava veramente poco aveva forti mal di testa spesso emicrani a volte sono comparse delle dermatiti cosicché incuriositi da questo fatto sia io che mio padre abbiamo convinto mia madre a fare delle analisi in ospedale scoprendo che soffriva di istaminosi che in realtà in maniera molto semplice niente altro che l'intolleranza alimentare alle istamine e da qui è nata la mia ricerca trovare un vino che potesse essere consumato da mia madre senza controindicazioni a questo punto iniziato a fare una prima diciamo ricerca su internet scoprendo che direttamente indirettamente circa il 20 per cento della popolazione mondiale è un'intolleranza alle istamine che non è per niente poca che l'alimento in questo caso liquido con il più alto contenuto di istamine in proporzione al consumo è il vino specialmente quello rosso i vini bianchi in realtà hanno un contenuto di istamine inferiore ai vini rossi un vino rosso parliamo sempre comunque di vini di alta qualità a un contenuto di istamine che normalmente si aggira tra i 5 e 20 milligrammi per litro poi esistono dei vini che hanno anche dei contenuti di istamine diciamo che quasi alle alle stelle a questo punto iniziato a parlare e discutere di questa mia scoperta nei principali salotti eventi internazionali scoprendo che alcuni paesi tra cui canada spagna australia stavano già studiando come controllare le istamine del vino mentre altri paesi europei ad esempio la germania ma non solo già suggerivano ai loro abitanti di acquistare vini con un basso contenuto di istamine da qui in poi ho dato vita alla vera ricerca o meglio la parte più impegnativa iniziata tra la fine del 2011 e i primi del 2012 quella inizialmente di analizzare vini un po' su tutto il territorio italiano dall'estremo nord all'estremo sud dell'italia per individuare un vino che avesse un contenuto di istamine in natura più basso della della media portando avanti questa analisi ho scoperto un dolcetto un dolcetto d'alba doc di una piccola azienda della langa che era la velio migrino figlio che aveva un contenuto di istamine già in natura di circa 2,5 mg per litro quindi al di sotto della 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 media l'enologo dell'azienda che era il che il signor abeglio svaldo affascinato da questa da questa mia ricerca fin da subito ha deciso di entrare a parte di questo mio progetto come consulente enologo dell'aloe stamine e così diventare il mio partner il mio lavoro è stato quello di coordinare professionisti quali enologi medici nutrizionisti per giungere allo scopo comune di ottenere in modo naturale non in laboratorio un vino con un contenuto di istamine che potesse essere il più vicino possibile al allo zero cioè senza istamine senza istamine quindi sei stato un po il project manager del progetto e se ho ben capito una figura chiave deve essere stata proprio quella dell'enologo osvaldo veglio corretto si esatto osvaldo è stato quello che ha portato la mia ricerca grazie alla sua professionalità sia in vigna che poi in cantina attraverso la sua azienda mi ha messo a disposizione la sua sia l'intera sua cantina le vasche tutti i macchinari per la vinificazione che poi sono stati utilizzati negli anni per i nostri esperimenti e ricerca a distanza di anni siamo riusciti poi alla fine ad ottenere i primi lo istamini lo istamina anche se allora non erano ancora chiamati in questa maniera che il primo è stato il dolcetto d'alba da dove è iniziata questa ricerca che aveva un contenuto di istamina all'incirca dello 0,2 mg per litro quindi praticamente quasi zero e poi successivamente altre doc ecco ma ci sono stati anche altri professionisti coinvolti che hanno dato un tocco importante a questa ricerca sì assolutamente sì come ho detto io ho cercato un po di coordinare dei professionisti per arrivare a uno scopo comune ci sono stati inizialmente alcuni medici da varie parti del mondo che mi hanno contattato poi c'è stata un'università australiana che in realtà più che una vera collaborazione c'è stato uno scambio di conoscenza poi ci sono stati alcuni altri nutrizionisti italiani ma in principal modo è stato un medico un nutrizionista e dietologo chirurgo italiano che è il dottor Franzero che si è unito a questa mia ricerca e intorno se non sbaglio era il 2017 sono stato contattato anche da alcuni docenti e medici dell'università La Sapienza che erano interessati a questa ricerca e portarla a livello universitario tanto che nello stesso anno 2017 se non sbaglio mi avevano patrocinato un evento all'interno della Fiera Internazionale del Vino Vinitali a Verona infatti si era presa una sala all'interno durante la fiera dove si erano uniti a me alcuni medici e docenti dell'università La Sapienza tra cui poi anche il dottor Franzero, l'enologo Venti Osvaldo che si era tenuto un simposio di fronte alla stampa ai giornalisti, ai portatori e ai distributori da varie parti del mondo dove si era raccontato un po' come sto facendo a te e ai tuoi ascoltatori da dove è nata la ricerca, l'intera ricerca e i benefici di un vino Loistamini insieme ad altri professionisti in realtà se uno andasse su Youtube probabilmente ritrova ancora qualcosa di questo simposio anzi è tanto altro materiale anche su questa ricerca che poi è la prima ricerca al mondo che riguarda vino e intolleranza alimentare quindi comunque un progetto grande ma un progetto che è arrivato diciamo a termine o un progetto che sta continuando e ci stai lavorando ancora sopra? che prospettiva può avere? no diciamo che in questo momento è come fosse un bebè anche se ormai la ricerca è nata dieci anni fa ma è come un bambino che deve crescere quindi in questo momento è un bambino che va alimentato, la ricerca va avanti, anzi io vorrei arrivare ad ottenere vini Loistamini ad esempio biologici per avere un valore aggiunto ancora di più al vino Loistamini, mi piacerebbe poter ottenere vini frizzanti, sparti Loistamini cosa non facile perché lì c'è anche il problema dei lieviti, ad esempio altra cosa per adesso l'intera ricerca è basata solo su vini vinificati in acciaio perché l'acciaio comunque si può sterilizzare mentre per adesso non siamo riusciti a capire come controllare le muffe che producono le istamine ad esempio di una vinificazione in botti di rovere o cevento ma perché? Perché all'interno del cevento e del rovere ci sono comunque delle muffe infatti normalmente, è brutto dirlo, ma normalmente vini vinificati in legno e soprattutto con tanti passaggi di legno come fanno in alcuni, soprattutto in alcuni paesi oltre l'oceano, normalmente hanno dei contenuti di istamine molto elevati anche superiore a quelli della media che ho accennato precedentemente quindi fondamentalmente dal punto di vista sensoriale i vini Loistamini sono sempre vini molto puliti o che caratteristiche hanno? Ma a livello sensoriale, perché anche questo abbiamo fatto delle degustazioni sensoriali con vari professionisti abbiamo notato che non c'è una grande differenza, ad esempio fa un vino è lo stesso vino della stessa denominazione Loistamino normale, soprattutto al palato al naso si sono viste piccole differenze in quanto sembra che un vino Loistamina abbia dei profumi un po' più evidenti cioè i profumi del vino escono in maniera abbastanza più evidente il vino si migliore di certo, anche perché le buffe che si vengono controllate che sono buffe che creano queste istamine durante la fermentazione sia sulla pianta che in cantina sono buffe non buone quindi sono buffe in realtà, c'è già solo abbassare il livello di istamine all'interno del vino comunque si migliora in una certa maniera il vino Quindi per la tua personale esperienza, stai vedendo, hai visto che ci sono alcuni mercati che hanno una richiesta maggiore di questo tipo di vini, alcuni paesi che hanno maggiore attenzione verso i vini Loistamino e quindi ti sentiresti di suggerire alle aziende italiane di investire in questa direzione per avere già un prodotto, lì o che si venda da solo ma più pronto ad entrare in certi mercati oppure cosa? Parlando di mercati sicuramente, anzi i vini Loistamino sia DOC che di OCC sono già stati esportati in diversi mercati del mondo grazie anche al mio lavoro e alle mie conoscenze ad esempio sono presenti da anni in Quebec in alcuni stati degli Stati Uniti, in Inghilterra tanto che è uno dei ristoranti più importanti italiani, forse il più importante a Londra è da anni che ha anche in menù i vini Loistamino sono in Australia, Cina, Hong Kong, Germania, in Italia e varie altre parti del mondo c'è stato un momento che perfino la Cina e il governo cinese erano interessati ai vini Loistamino in passato ho avuto anche varie aziende vinicole prima della pandemia da parti del mondo ad esempio Sudafrica, Australia, Francia e anche Italia che mi hanno contattato perché erano interessati a produrre e vedere come poter produrre vini Loistamino ma comunque dal punto di vista del mercato i mercati che sono più pronti a questa che normalmente sono già più pronti in generale per alimenti dedicati all'intollerante alimentare sono alcuni mercati europei ad esempio la Germania anni fa ho fatto un tour di promozione in Germania ho notato che in Germania almeno l'80% delle enoteche o ristoranti o comunque tutti quelli che avevano a che fare col mondo del vino conoscevano il fattore Istamine legato al vino quindi c'è sicuramente una grande conoscenza ma anche ad esempio in Olanda ecco, altro paese dove sono stati esportati i vini Loistamino ma altro paese dove ho sovente mi contattano tramite anche il sito internet www.loistamino.com attraverso la mia email è l'Inghilterra che vedo che sono molto gli inglesi sono molto sensibili a questa cosa ma il paese che ho notato che in realtà corre un po' più dietro la questione dell'intolleranza alimentare dove anche poi alla fine abbiamo puntato di più perché abbiamo notato proprio questa richiesta da parte del consumatore finale Nord America principalmente Stati Uniti e poi il Canada perché c'è una forte sensibilità verso l'intolleranza alimentare forse anche a causa di a volte di vari loro alimenti che non sempre seguono determinate cose quindi c'è una forte una forte richiesta quasi ogni settimana anzi quasi ogni settimana devo dire quasi ogni giorno ma in realtà ogni settimana vengo contattato da consumatori da consumatori che mi chiedono dove poter acquistare questi vini come è nata la ricerca mi raccontano i loro problemi che soffrono gli staminosi che hanno questa intolleranza e molti di questi non riescono neanche a bere mezzo bicchiere di vino e cosa interessante è che durante le nostre sperimentazioni perché poi abbiamo testato i vini a livello mondiale con intolleranti alimentari alle istamine con chi soffre gli staminosi e abbiamo scoperto che c'erano persone che non potevano bere neanche mezzo bicchiere di vino cioè che quindi per anni si sono privati del piacere di un bicchiere di vino hanno potuto bere uno dei nostri vini riprendere questo piacere esatto e per me è stata la cosa più piacevole che quando mi hanno telefonato mi hanno scritto dicendomi finalmente posso godermi in pace senza controindicazione un buon bicchiere di vino e parliamo sempre dei vini DOC e di OCC cioè quindi vini di una certa importanza ecco Sebastiano molto interessante allora è cercare di fare un po' di chiarezza tra la differenza tra le istamine e l'anidride solforosa che spesso è demonizzata come la causa di tutti i mali il motivo principale di malessere in soggetti che magari hanno già una certa predisposizione a una sintomatologia delle vie respiratorie o comunque anche sfoghi sulla pelle o quant'altro ci puoi aiutare un attimo a dare alla solforosa quello che è della solforosa e alle istamine ciò che invece giustamente appartiene loro ma in realtà si è dato tutta la colpa ai solfiti di Maria Pora probabilmente anche perché sono quelli più facili da controllare come sai in natura il vino ha dei solfiti però la maggior parte sono solfiti aggiunti che servono per conservare il vino stesso quindi dal punto di vista dell'enologia è semplice basta non aggiungere i solfiti all'interno del vino anche se si ha una minore conservazione poi del vino stesso mentre per quello che riguarda le istamine non è che le istamine non vengono aggiunte nel vino ma vengono prodotte totalmente in natura sono come già detto prima sono prodotte vengono create da delle buffe durante la fermentazione sia in vigna che in cantina quindi sono un po' più complicate da controllare dall'altra parte sì basti pensare che si dà sempre questa colpa totale dei solfiti il vino quando in realtà anche tu mi spieghi che ci sono alimenti con molto più contenuto di solfiti che il vino stesso di cui non se ne parla mai dall'altra parte se pensiamo invece all'istamine lo dice la parola stessa pensate agli antistaminici esistono in medicina degli antistaminici che servono proprio per ridurre le istamine all'interno del nostro corpo perché comunque senza istamine ogni essere vivente ha delle istamine senza istamine non potremmo vivere il problema è quando le istamine c'è uno sculibro di istamine all'interno del nostro corpo quindi in realtà le istamine crescono all'interno del nostro corpo subentrano le cosiddette intolleranze o allergie ad esempio mi piace sempre fare un po' questo esempio per far capire anche un po' cosa c'è indietro a un'intolleranza all'istamine o l'intolleranza ai vino che non sempre deve essere diretta al problema di istamine ma ci può essere anche indiretta cosa vuol dire dire diretta ad esempio quando uno ha un'allergia una semplice allergia ad esempio una delle più comuni quella ai pollini in quel momento lì cosa succede che le istamine nel proprio corpo hanno uno squilibrio e crescono in questo caso bisognerebbe seguire una dieta a basso livello di istamine e visto che il vino rosso come abbiamo già letto fin dall'inizio è l'alimento liquido con più alto contenuto di istamine in proporzione al consumo dovrebbe essere eliminato cosa succede in questo caso quando uno ha un'allergia del genere se beve un vino anche un vino fantastico di buona qualità possono subentrare dei problemi come i mal di testi di cranio la prima cosa che si dà la colpa è al vino ma in realtà la colpa non è del vino ma è dello stato della persona in quel momento il vino è solo la cosiddetta goccia che fa trabloccare il vaso che fa sì che uno avendo già uno scompenso di istamina assumendo un alimento con alto contenuto di istamina esce la cosiddetta in tolleranza che può essere come abbiamo detto principalmente mal di testa di cranio di apatiti problemi di stomaco un'altra ad esempio che ho scoperto soprattutto nel mondo asiatico perché il continente è la parte del territorio dove ne patiscono di più ad esempio la faccia rossa i rossori ad esempio vi ricordo quando vado spesso in Cina molti abitanti molti cinesi quando bevono vino specialmente rosso hanno subentro questa faccia rossa questo viso rossa infatti abbiamo testato anche i nostri vini con dei consumatori cinesi sì beh lì poi entrano se non sbaglio in gioco anche dei meccanismi enzimatici per cui i popoli asiatici hanno una quantità di alcol di idrogenasi inferiore per cui riescono a metabolizzare con più difficoltà o più lentamente la molecola proprio dell'alcol però ecco sì sicuramente problemi di salute sono anche legati all'aspetto cronico nel tempo di assunzione di tanti alimenti che hanno molecole al loro interno a cui poi uno è più o meno sensibile però il legame con le istamine è leggermente diverso perché in realtà le istamine hanno legame con tutte le intolleranze cioè oltre a essere come ho detto all'inizio c'è una percentuale che si calca intorno al 20% della proporzione mondiale a un'intolleranza di istamine direttamente indirettamente direttamente si calcola circa il 3% che è sempre alto che vuol dire cosa vuol dire direttamente che proprio sei intollerante alle istamine indirettamente quella che ho spiegato prima che in realtà tu non hai un'intolleranza alla istamina ma hai delle intolleranze o meglio ancora delle allergie che ti portano lo scompenso istaminico e quindi subentra la tolleranza che sono due cose diverse però è diverso dall'assunzione continua di alimento perché l'assunzione continua degli alimenti come hai detto bene te cosa porta? può portare a delle allergie o intolleranze mentre quella delle istamine è la conseguenza dell'intolleranza comunque questa cosa sarebbe poi interessante magari in futuro poterne parlare direttamente anche con il dottor Eugenio Franzero che ha seguito con me questa ricerca a livello proprio medico che quindi è una professionista delle intolleranze mondiali italiane ma non sono ormai anche a livello mondiale Eh sì assolutamente bisognerebbe davvero fare chiarezza tra tanti aspetti che coinvolgono la salute umana e riescono anche a aiutare il mondo del vino perché spesso è demonizzato come chissà quale alimento si piacevole ma che può dare chissà che problemi e non è tutta colpa sua anzi Ma guarda visto che stai parlando proprio di medicina mi vado molto fiero perché negli anni la mia ricerca la nostra ricerca su intolleranza alimentare i vini, i vini lovestamini sono stati pubblicati su molte riviste nazionali e internazionali che parla di cibo e vino siamo stati intervistati da molte televisioni sia nazionali che internazionali ma in particolare c'era una rivista italiana a tiratura nazionale che viene istituita anche in altri paesi europei che è vero salute che mi aveva dedicato mi pare era il 2016 due pagine intere eccole qua proprio su questa ricerca i vini lovestamini quindi era finito anche su una rivista non solo di cibo e vino ma anche di salute che per me era una cosa importante perché vuol dire che sei andato a toccare un tasto che come ho detto che non è solo un tasto sensoriale di gusti di piaceri ma un tasto veramente che va a toccare lo stomaco la salute la salute esatto altro tasto sempre a toccare però è il portafogli se vogliamo questo lavoro andare poi a produrre vini lovestamini a parte che hai già detto che può essere un grande vantaggio perché ci sono dei mercati particolarmente attenti al tema e quindi si possono aprire dei canali magari preferenziali dal punto di vista commerciale ma dal punto di vista produttivo che impatto c'è nel sistema economico di un'azienda dal punto di vista dei costi come ho già detto sono una questione di dedicarci più tempo quindi in realtà il costo diventa il tempo ma visto che il tempo è il denaro sicuramente dei costi ma non sono esorbitanti ci sono come ho già spiegato delle analisi ma le analisi costano relativamente poco se ricordo bene sono comunque sotto i 100 euro quello che può dare all'azienda vinicola è una qualcosa in più cioè basti pensare a livello commerciale che oggi i principali ristoranti di media e alto livello in Italia ma in tutto il mondo ormai portano un menù dedicato a intolleranti alimentari tanto che alcuni stati euro per legge vanno indicate le intolleranze sul menù e deve esserci un menù per intolleranti alimentari ma la stessa cosa per la media grande distribuzione oggi la grande distribuzione i supermercati hanno degli scappali a volte degli terri reparti dedicati all'interrante alimentari ma fino ad ora non c'era il vino bisogna ricordare che il vino è un alimento quindi già solo con questo discorso si capisce comunque il valore aggiunto a livello economico e commerciale che si può dare a un'azienda che produce vini lovistamina a me personalmente infatti io sono nel campo della promozione come spiegato e anche sovente rappresento importatori e distributori da varie parti del mondo a me questa ricerca ha aperto tantissime porte e in più anche con grossi gruppi che si sono fatti avanti perché interessati a questo piccolo neonato è vero una cosa nuova ma comunque secondo me andrà in crescita è una interessante rivoluzione nel mondo del vino e noi saremo qui per raccontarla insieme a te Sebastiano al tuo team alle persone che ti supportano per sviluppare questo progetto interessantissimo insieme a tutte le aziende che vorranno contattarti o contattarci tramite i vari indirizzi che abbiamo fatto scorrere durante il video stesso per avere maggiori informazioni per comprendere come poter provare a rendere il mondo un po' più lovistamines almeno a partire dal vino grazie Seba per la tua partecipazione per tutto quanto ci hai raccontato e per averci anche reso un po' più dotti sull'argomento ti aspettiamo per altre puntate per altri approfondimenti perché con te sicuramente c'è un mondo intero di vino da affrontare a presto grazie a te e grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori grazie a tutti